ok perfetto possiamo partire ok grazie allora grazie al collegio ghislieri come sempre senza il ghislieri tantissime cose non ci sarebbero grazie ad alberto sonnino e alia tagliacozzo uso l'ordine alfabetico per essere qui con noi stasera così generosamente li presento con delle piccole introduzioni di ciò di cui non si può parlare si deve tacere ha scritto wittgenstein nel tractatus logico filosoficus poi c'è il silenzio di dio di cui ha parlato andrea neer nell'esilio della parola quando dio è muto nel corso di atrocità e poi ci sono la cospirazione del silenzio di cui ha scritto per la rivista di psicoanalisi nel 2020 alberto sonnino e la congiura del silenzio di cui si è occupata alia tagliacozzo nel suo libro la generazione del deserto manni 2020 inoltre non possiamo non dire del silenzio imposto dalla censura nelle dittature e del silenzio dell'omertà infine c'è il piacevole silenzio del pensare per difendersi e proteggersi dalla dittatura del rumore molti silenzi dunque quasi tutti di segno negativo come quello di cui si tratta in particolare negli altri incontri di questo ciclo il silenzio imposto dalla pandemia da covi 19 stasera invece a partire dal dramma della shoah che qui però concordemente abbiamo deciso di utilizzare come pretesto per confrontarci sulla qualità la ragione il senso la funzione in rapporto a esperienze traumatiche della cospirazione del silenzio e della congiura del silenzio la cospirazione volta a non dar voce mediante un patto stabilito patto reale ma ahimè non esplicito quindi più difficile da individuare a una tragedia patto tra chi teme di essere stato o comunque di essere giudicato colpevole di essere sopravvissuto e chi non può non vuole avere in sé spazio per entrare in contatto con orrore angoscia repulsione colpa come dice voleva citato da sonnino nel suo articolo di quali orrori che cimentano la nostra umanità ma cos'è umanità si tratti lo troviamo in due libri a mio parere straordinari proprio perché offrono per così dire la prova di quanto sia difficile entrare in contatto diretto con la forza e le energie straordinarie di eros contro tanatos i libri sono il bambino nella neve di vodle gold corn che ringrazio e le madri salvate e in audi di colombe schneck che cercherò di con la quale cercherò di entrare in contatto proprio per quel seminario di cui si parlava poco fa so di persone un'amica cara per esempio che hanno rifiutato di leggerli questi libri persone colte generose in alcuni casi anche credenti in tale rifiuto di sapere di comprendere prendere con sé risiedono le radici credo della cospirazione del silenzio ma non solo ci sono anche ragioni prosaiche il libro bellissimo di lia parla di coloro che lei chiama gli infami di cui narrano per fare due soli esempi due film lo stato contro fritz bauer di lars kraume del 2015 nel quale si comprende come lo stato stesso possa coprire nel dopoguerra a tutti i costi ex nazisti che stanno facendo carriera negli apparati del governo democratico e poi remember di atom egoian anch'esso del 2015 dove ex nazisti riescono a trovare il modo di non fare i conti con il proprio passato però c'è un però la cospirazione del silenzio può dunque assumere scientemente la valenza di mantenere il trauma ma con esso aggiungo la responsabilità e la colpa di chi il trauma l'ha inflitto all'interno della realtà sociale come un corpo estraneo necessario opponendosi ripeto scientemente a trasformarlo in rappresentazione rendendo ne scrive appunto sonnino che ora ce ne parlerà elaborabile linea elaborabile e trasformando un fantasma persecutorio in pensiero e consapevolezza presento alberto e poi gli chiedo appunto di approfondire tali questioni e psichiatra psicoanalista membro ordinario della società psicoanalitica italiana e dell'international psychoanalytical association autore di numerose pubblicazioni scientifiche fra cui diverse sui rapporti tra psicoanalisi ed ebraismo e sull'elaborazione del trauma della shoah è recentemente un commento psicoanalitico ed esegetico rabbinico alla gada di pesach il testo che narra la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in egitto si aggiungono inoltre lavori sul setting sulla trasmissione transgenerazionale della vita psichica e co fondatore e past president dell'associazione ambientalista italo israeliana the italian council for beautiful israel con la quale ha organizzato diverse iniziative in collaborazione con le principali università per favorire una maggiore consapevolezza sulle problematiche inerenti la tutela dell'ambiente nel 2020 è stato insegnato dell'onorificenza di ufficiale della repubblica per il contributo portato al quirinale su invito di il presidente sergio mattarella per le celebrazioni della giornata della memoria vive e lavora a roma gli do la parola a una ventina di minuti circa e poi passiamo a lì a tagliacozzo alberto grazie grazie allora intanto eh un ringraziamento particolare per l'organizzazione per l'invito a daniela scotto di fasano e al professor eh francesconi e quindi al al collegio al collegio ghislieri dovendo parlare di silenzio io vorrei iniziare con chi invece ha sollevato la propria voce contro le ingiustizie a cominciare da pietro ciapessoni che è stato rettore del collegio ghislieri dal 1914 il quale nel 1939 appunto si è appunto impegnato per difendere i diritti dello studente ebreo Lino Iona studente di ingegneria al collegio ghislieri per permettergli di proseguire gli studi vietati dalla legislazione eh di la legislazione fascista insieme alla voce di Pietro Ciapessoni ci sono state ovviamente tante altre voci autorevoli che si sono eh alzate per contrastare l'ingiustizia eh basti ricordare gli esponenti del gruppo antinazista La Rosa Bianca Sofie Hans Scholl basti ricordare la eh definizione di Pio Undicesimo che definisce il genere umano una sola grande razza quindi opponendosi alla legislazione sempre di di Mussolini o basti ricordare ancora la protesta del eh del cardinale Clemens von Galen contro il progetto eutanasia o la voce di eh del cardinale di Milano eh Alfredo il defonso Schuster che nel 1938 definisce il razzismo una vera e propria una vera e propria eresia eh questi sono soltanto pochi esempi di persone che hanno avuto il coraggio e la forza per contrapporsi all'ingiustizia della persecuzione razziale e dello sterminio che è poi eh succeduto alle alle prime legislazioni eh discriminatorie ma accanto accanto alle alle voci di protesta c'è stato un primo silenzio terribile eh quel silenzio studiato nel bellissimo lavoro di Walter Laker il terribile segreto che passa in rassegna eh tutte le autorità le istituzioni le persone che avrebbero potuto dire qualcosa e che invece sono rimaste in silenzio a cominciare dal presidente del comitato dei servizi segreti britannici o a cominciare dal ministro degli esteri inglese Anthony Eden che eh oltre a considerare esagerate le voci che iniziavano a circolare sullo sterminio degli ebrei eh manifesta preoccupazione per dove sarebbero andati gli ebrei qualora fossero stati accolti dalla fuga dalla Germania dalla Germania di Hitler e quindi dobbiamo chiederci cosa possa esserci stato intanto alla base di questo primo colpevole eh silenzio eh si può parlare si può far riferimento a tante ipotesi e io credo che un'ipotesi significativa sia quella di Wieser Uft il primo segretario del Consiglio Mondiale delle Chiese dal 1938 al 1966 un un teologo protestante che parla di vero e proprio diniego quindi colloca l'atteggiamento della collettività nei confronti delle notizie che iniziavano a circolare sullo sterminio in quell'area cieca in quell'area buia eh interposta tra il sapere e non sapere ma che comunque non esime da responsabilità e da colpa chi si lascia proprio eh trasportare dal eh dal diniego eh responsabilità che diventa ancora più evidente e macroscopica mi sto sempre riferendo a coloro i quali sono rimasti in silenzio nel momento in cui ben ventiquattro organizzazioni umanitarie di soccorso e trentadue esponenti governativi si riuniscono a Devian il sei luglio del trentotto proprio per prendere provvedimenti eh a difesa dei profughi che iniziavano a scappare dalla dalla Germania dalla Germania nazista Hitler era salito al potere nel trentatré ma già da prima c'erano state del c'era stato un movimento diciamo così nazista fortemente ostile agli ebrei e non solo eh queste queste nazioni questi esponenti governativi e questi esponenti delle organizzazioni di soccorso discutono su come accogliere i profughi ma poi eh fanno in modo che i confini rimangano le porte dei loro confini rimangano chiuse per cui i profughi non vengono accolti così come rimangono chiusi i porti eh al eh tentativo di attracco del transatlantico del transatlantico San Luis che eh salpa da eh D'Amburgo nel mila novecento trentanove carico di un migliaio circa di ebrei che scappavano dalla Germania nazista ma tutti i porti rimangono eh rimangono chiusi e non vengono accolti e molti di loro finiscono appunto nelle camere nelle camere a gas quindi c'è un c'è un mondo consapevole e responsabilmente colpevole di non aver non solo fatto ma nemmeno detto nulla rispetto alle persecuzioni che iniziavano che iniziavano a farsi via via sempre più ampie insomma si sono proprio allargate a macchia d'olio dalle esecuzioni eh con eh da parte delle Insats Gruppen eh dal 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 trentanove in poi fino alla soluzione finale quindi c'è stato proprio un allargarsi del processo di di eliminazione degli ebrei e quindi e quindi c'è un silenzio colpevole e responsabile questo direi che è il primo silenzio che interessa la Shoah poi ce n'è un secondo arriveremo a un terzo è un quarto silenzio c'è un secondo silenzio quello definito dalla psicologa israeliana Yael Danieli dai suoi lavori che partono dal 1981 c'è una pubblicazione interessantissima del 1984 la quale studia il rapporto tra chi avrebbe dovuto potuto iniziare l'elaborazione del trauma quindi si riferisce ai sopravvissuti che sono rimasti in silenzio per circa mezzo secolo e chi avrebbe dovuto accogliere la loro voce la loro testimonianza fa un lavoro proprio basato su su principi proprio sperimentali scientifici con il quale studia l'atteggiamento degli psicoterapeuti nei confronti di pazienti sopravvissuti alla Shoah e lei indica proprio una responsabilità da parte dei terapeuti nel non favorire l'esplicitazione la verbalizzazione quindi l'espressione dei propri vissuti traumatici parla di atteggiamenti volti all'evitamento al diniego ancora una volta questo per non sentirsi responsabili o colpevolizzati dal racconto delle vittime delle vittime traumatizzate c'è una letteratura interessante sulla sulla difficoltà dei terapeuti che dovrebbero essere dotati di un equipaggiamento e di una particolare disposizione diciamo per poter accogliere vissuti traumatici quindi vissuti scottanti potremmo dire difficile da maneggiare eppure gli stessi terapeuti gli stessi analisti si imbattono in difficoltà particolari una sensazione di impotenza l'angoscia il timore di essere coinvolti in una sorta di processo di colpevolizzazione e di responsabilizzazione quindi c'è c'è questa prima difficoltà che si contrappone alla possibilità che che sopravvissuti esprimano il proprio la propria il proprio dolore la propria esperienza la propria esperienza traumatica chi è portatore di un vissuto traumatico perché possa essere aiutato ad esprimerlo ha bisogno di qualcuno che tenda una mano tenda una mano nel senso di potersi rendere disponibile ad accogliere il racconto se non c'è questa disponibilità il paziente o la persona portatrice di traumi molto difficilmente riuscirà può riuscire ad esprimere il proprio vissuto noi immaginiamoci che vissuto difficile da comunicare da condividere può aver avuto settimio calò settimio calò è una una persona che il 16 ottobre del 1943 abitava nel ghetto di roma esce di casa per andare a comprare sigarette quando ritorna non trova nove i suoi nove figli e la moglie ritorna e non non trova più nessuna casa non potrà più rincontrarli perché sono stati tutti deportati dai camion del ss al comando di cappler che hanno fatto la responsabili della retata del 16 ottobre ecco una persona che in un colpo solo vede sparire la presenza vede sparire i propri figli nove figli e la moglie come come può essere incentivato aiutato spinto a condividere il proprio vissuto quindi serve veramente una capacità una capacità enorme io credo che ci sia un altro elemento importante alla base di questa difficoltà la difficoltà a raccontare della propria esperienza del proprio vissuto traumatico e questo secondo questo secondo elemento alla base di questa difficoltà io credo che stia proprio nel tempo necessario perché la libido gli aspetti vitali possano poco a poco riprendere vigore e permettere all'eros di contrastare tanatos di contrastare gli aspetti mortiferi nel cantico dei cantici è scritto molto chiaramente stiamo parlando di un testo antico migliaia di anni nel cantico dei cantici è scritto forte come la morte e l'amore proprio ad indicare che l'unica risorsa umana che può consentire di contrastare la morte è l'amore e quindi occorre che il sopravvissuto perché possa sentirsi in grado di esprimere il proprio vissuto doloroso deve essere alimentato da ciò che nel proprio mondo interno può riprendere piano piano a farsi sentire a partire dalle spinte vitali a partire a partire dall'eros nell'ultimo libro pubblicato postumo da jonathan sacks che è stato rabbino capo del commonwealth lui dice prima di costruire il futuro prima di prima di poter ricordare il passato occorre ricostruire il proprio futuro quindi trovare una una prospettiva volta alla ricostruzione e alla difesa alla tutela e alla tutela della vita questa difficoltà questa difficoltà a raccontare a condividere con la collettività esterna il proprio vissuto doloroso io credo che sia un dato questa difficoltà credo che rappresenta un dato incontrovertibile vorrei soltanto vorrei soltanto dare pochi elementi a conferma e a riprova di questa difficoltà difficoltà che si è protratta per circa 50 anni forse non tutti sanno che il testo di primo levis e questo è un uomo che è stata una delle delle prime voci che hanno descritto l'orrore della sciama possiamo considerarla una tra le poche eccezioni che precocemente diciamo precocemente si è potuta come dire si è potuta esprimere insomma è stata è stata come dire con condivisa con con la collettività è stata inizialmente rifiutata la pubblicazione del test è stato rifiutato dall'editore in auti e l'opera monumentale di raul hilberg la distruzione gli ebrei in europa sono due volumi che raccontano proprio molto dettagliatamente come si è andata costruendo via via passo dopo passo la la soluzione finale è stata negli stati uniti rifiutato la pubblicazione di questo testo è stato rifiutato da ben da ben tre autori per rimanere diciamo agli esempi di casa nostra senza considerare il fatto che i sopravvissuti italiani hanno iniziato a scrivere a rispondere ad interviste a pubblicare soltanto a partire dagli anni 80 90 mi piace ricordare il fatto che i viaggi della memoria che vengono organizzati con le scoleresche nei campi di sterminio per permettergli proprio di avere una visione più chiara e diretta di cosa si è stata la Shoah per gli appartenenti alla comunità ebraica il primo di questi viaggi è stato organizzato è stato organizzato nel nel 2008 mentre soltanto nel 2010 quindi appena dieci anni fa 11 anni fa è stato organizzato il primo incontro ufficiale tra i sopravvissuti che ahimè oggi sono in numero progressivamente ridotto e gli appartenenti alla comunità alla comunità ebraica allora questo ci fa capire che da una parte effettivamente occorre occorre che occorre che le spinte vitali permettano permettano a queste persone di riprendere la forza e il coraggio necessario per per aprirsi e per esprimersi dall'altro lato è importante che ci sia e qui ci addentriamo verso il terzo silenzio di cui di cui vorrei parlare occorre che da parte del contesto esterno da parte della collettività sia effettuato un processo proprio di elaborazione delle responsabilità volebbero molto chiaro in questo senso quando c'è un trauma dalle dimensioni così importanti e il lavoro individuale non è sufficiente occorre veramente uno sforzo sociale collettivo antropologico e noi dobbiamo chiederci ma la collettività a quale processo verso quale processo si è impegnata per elaborare le proprie responsabilità per elaborare la responsabilità che ha avuto l'intera compagine europea e non solo stavo dimenticando la responsabilità degli alleati che si sono rifiutati di bombardare le linee ferroviarie che portavano ad Auschwitz bombardamento che avrebbe consentito di salvare probabilmente migliaia migliaia di vite umane allora che elaborazione ha messo in campo la collettività per riconoscere le proprie responsabilità e fare in modo che una colpa persecutoria potesse diventare una potesse trasformarsi in una colpa depressiva una colpa persecutoria una colpa non riconosciuta che persecutoriamente può come dire determinare dei degli effetti dei risvolti e degli svolti anche patologici un interesse psicopatologico in chi in qualche modo si sente correlato all'azione criminosa all'azione all'azione responsabile che processo di elaborazione dicevo ha messo in campo ha messo in opera la collettività se tutt'oggi la il genocidio degli armeni non viene riconosciuto dal governo turco che è il principale responsabile di quel genocidio che ha preceduto preceduto di pochi anni di pochi anni la Shoah probabilmente non tutti sanno che c'è un articolo del codice penale turco l'articolo 301 del codice penale che sanziona ogni riferimento al genocidio degli armeni e soltanto nel 2006 il governo turco ha secretato i documenti catastali del 1915 ritenendo che quest'azione fosse necessaria per la sicurezza nazionale non riconoscendo che questo atto avrebbe impedito la rivendicazione di proprietà immobiliari da parte dei discendenti del popolo armeno rispetto a tutte quelle proprietà che sono state all'epoca al momento dell'impero ottomano sono state sequestrate prima di aver decimato prima di aver sterminato prima di aver sterminato le persone le persone stesse sempre per rimanere per rimanere in in area in area ottomana turca nel 2001 viene le viene eretto un memoriale nella gola di kemach per ricordare i militari turchi ottomani che erano precipitati con la loro camionetta in una gola senza fare minimamente menzione delle migliaia di armeni che sono stati di migliaia di armeni inermi che sono stati uomini donne bambini anziani che sono stati sterminati nello stesso nello stesso luogo e per andare ad una realtà ancora più vicina ancora più vicina a noi pensiamo alla polonia che ha pochi anni fa varato una legge che condanna qualunque riferimento alle responsabilità della popolazione civile polacca rispetto rispetto alla rispetto allo sterminio allo sterminio degli ebrei legge che non consente di riconoscere ufficialmente la responsabilità della popolazione civile polacca nel pogrom di jedwabne avvenuto avvenuto ai danni appunto degli ebrei durante il conflitto il secondo il secondo conflitto mondiale e che inizialmente era stato attribuito alle ss e alla gestapo ma poi si è scoperto che questo pogrom a jedwabne in realtà è stato perpetrato per mano dei civili polacchi ai danni ai danni degli ebrei responsabilità che non può in virtù di questa legge non può essere non può essere riconosciuta perché ha perpetrato un altro gravissimo pogrom a guerra finita nel 1946 sempre contro popolazione civile ebraica ebraica inerme allora tutto questo per dire che al silenzio dei governi europei delle organizzazioni e delle istituzioni europee il silenzio dello stesso presidente americano roosevelt durante la seconda guerra mondiale che non ha mai condannato apertamente ed esplicitamente le politiche razziste messe in opera dalle leggi di norimberga quindi a questo primo silenzio si aggiunge il silenzio succeduto alla fine del della seconda guerra mondiale con i sopravvissuti che hanno dovuto attendere 50 anni 60 anni prima di poter avere trovare il coraggio per prendere la parola a questo secondo silenzio se ne è aggiunto un terzo successivo alla guerra e che badate bene io proprio l'impressione tenda a ripercuotersi negativamente sulle generazioni successive successive responsabili la psicoanalisi ci insegna gli studi sulla trasmissione transgenerazionale ci insegnano che una un vissuto non riconosciuto non esplicitato si può trasmettere segretamente da una generazione all'altra determinando determinando degli effetti di interesse di interesse psicopatologico quindi se non c'è un elaborazione se non c'è un riconoscimento delle responsabilità chi rischia di farne le spese sono proprio gli appartenenti alla seconda e alla terza generazione dei responsabili dei responsabili stessi io ho un paziente che è figlio di un volontario aderente volontariamente alla repubblica sociale di salò di questa adesione in famiglia nella sua famiglia mi racconta il paziente non si è mai parlato e lui ha sviluppato nel corso degli anni una sintomatologia di conversione quindi di interesse francamente psichiatrico e psicopatologico soltanto con il lavoro dell'analisi si è potuti arrivare a ricostruire il nesso profondo e importante tra questo vissuto denegato scotomizzato all'interno della famiglia e la sua sintomatologia nel momento in cui questo processo è stato avviato i sintomi a poco a poco sono sono scomparsi allora tutto questo per dire che la mancata elaborazione delle responsabilità dovuta anche ai colpi di spugna eh di cui sono responsabili le amnestie quella di Adenauer in Germania quella di di Togliatti nel millenovecento quarantase in Italia e l'atteggiamento dello stesso De Gaulle che aveva una particolare fretta di sedere sul tavolo dei vincitori agli alta per per prendersi gli onori della vittoria eh che ha però al prezzo e al costo di un diniego totale delle responsabilità della popolazione francese e del governo di Vichy eh ci sono stati due due documentari molto molto importanti che sono stati che sono stati prodotti e che la censura francese lo stesso De Gaulle ha proibito che venissero trasmessi in Francia perché veniva indicata una responsabilità diretta in particolare ce n'è uno in cui si vede proprio un gendarme francese che spinge gli ebrei nei carri destinati destinati ad Auschwitz De Gaulle dicendo che il paese in quel momento aveva bisogno di speranza di coesione e di speranza certamente non di verità ha impedito che le coscienze francesi prendessero atto prendessero atto della loro responsabilità. Un ultimo silenzio e con questo vorrei vorrei concludere credo di aver saltato tantissime cose ma veramente ce ne sono ce ne sono ce ne sono tante eccola il silenzio il silenzio che che interposto tra il nome di Riccardo Clement e quello è quello di Adolf Eichmann Adolf Eichmann che il regista della soluzione finale che dopo la guerra in Argentina come tranquillo operaio come tranquillo operaio della Ford assume il nome di Riccardo Clement e vive per anni indisturbato fino al momento in cui il Mossad non non va a catturarlo per portarlo a Gerusalemme dove sarà processato c'è un silenzio interposto tra questi due nomi il nome di Eichmann e il nome di Riccardo Clement così come c'è un silenzio interposto tra il nome di Eric Priché il responsabile delle fosse ardiatine a Roma e di Otto Pape un tranquillo pensionato di Bariloce. In mezzo a questi due nomi c'è un silenzio ed è il silenzio della Rat Line la via via di fuga dei gerarchi nazisti dopo dopo la guerra eh via di fuga sostenuta da eh organizzazioni importanti organizzazioni governative la Caritas la Croce Rossa internazionale lo stesso Vaticano hanno permesso la fuga di questi gerarchi se non si prende atto di questo io credo che la stessa collettività rischia di pagarne di pagarne le spese. Concludo concludo con l'ultimo silenzio il silenzio di Dio ci si è interrogati ci si è interrogati soprattutto dal punto di vista teologico mistico ci si è interrogati su quale potesse essere la voce di Dio rispetto rispetto ai massacri nei campi nei campi di esterminio. Questo è un interrogativo che è destinato ovviamente a rimanere senza risposta eh dice Isaia il profeta Isaia i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri fatti di Dio non sono i fatti dell'uomo quindi è impossibile per noi esseri umani arrivare ad una risposta soddisfacente rispetto a questo interrogativo eh ma c'è un un'ipotesi che credo sia percorribile ed è un'ipotesi a cui mi piace a cui mi piace pensare eh l'ipotesi è quella dello simsum ci viene in aiuto la cabala lo simsum è quel fenomeno per cui Dio onnipotente che occupa quindi qualunque spazio qualunque luogo per dare origine al mondo si deve ritrarre lo simsum è proprio il ritrarsi di Dio che si eh come dire fa un passo indietro per dare spazio al mondo e per dare spazio all'uomo nel momento nel momento della creazione quindi c'è il finito che deve prendere spazio all'interno dell'infinito nel momento in cui l'infinito si fa un po' meno infinito ma c'è un secondo simsum importante ed è lo simsum che rende Dio paradossalmente non onnipotente e questo simsum avviene nel momento in cui Dio dà all'uomo il libero arbitrio concede all'uomo il libero arbitrio allora vuol dire che Dio è onnipotente fino al momento in cui non c'è il la decisione la volontà e la responsabilità dell'essere umano allora io credo che questo può farci capire che Dio stesso non può non poteva farsi sentire non poteva esprimersi nel momento in nel momento in cui concede all'uomo il libero arbitrio e quindi la possibilità di agire nel bene nel bene nel male e allora questo fa sì che l'interrogativo si riverberi sull'essere umano perché l'uomo deve continuare a cercare non ha risposte Dio non ha parlato non si è espresso e quindi l'uomo continua a cercare e noi analisti nella nostra professione nella nostra pratica quotidiana sappiamo molto bene che nel momento in cui il paziente ci chiede qualcosa e noi rimaniamo in silenzio non interveniamo con la nostra risposta il paziente continua a cercare il paziente proprio perché messo di fronte all'assenza della parola dell'analista è portato a cercare dentro se stesso allora vuol dire che l'essere umano nel momento in cui non ha a disposizione la parola di Dio c'è il silenzio si confronta con il silenzio di Dio l'essere umano è portato a cercare questa risposta a cercare la presenza e la voce di Dio dentro se stesso e per l'ebraismo cercare Dio dentro se stesso vuol dire seguire la strada etica indicata dalle parole di Dio indicata dall'alahà indicata da quelle che sono le regole le regole ebraiche e fondamentalmente le regole ebraiche in cosa consistono consistono nel precetto vuol dire ama il prossimo tuo come te stesso io sono il Signore tuo Dio io sono Dio cosa vuol dire questo vuol dire che per cercare Dio l'uomo deve mettersi in discussione e assumere la responsabilità delle proprie azioni assumere la responsabilità delle proprie azioni vuol dire ricordarsi di non fare agli altri ciò che non si vorrebbe fosse fatto a se stessi e Dio aggiunge nel momento in cui dà il precetto nel momento in cui dice ama il prossimo tuo come te stesso conclude la frase questo è scritto sulla Bibbia conclude la frase io sono Dio come a ricordare che l'essere umano è fatto a immagine e somiglianza di Dio quindi c'è un pezzetto di Dio dentro essere dentro ogni essere umano allora soltanto andando alla ricerca di questo pezzetto di essere questo pezzetto di Dio presente all'interno dell'essere umano è possibile che la condotta assunta dall'uomo sia più consapevolmente responsabile e questo può metterci al riparo del reiterarsi di tragedie come quella che c'è stata 60 70 anni fa con la Shoah grazie grazie Alberto qua eh manca la possibilità di fare gli applausi ed è davvero un peccato eh in questo caso il silenzio è appunto spiacevole e due beh è una cosa importante questa del libero arbitrio ma la ricollego dopo voglio passare a riflettere sulla congiura del silenzio e torno a sottolineare che almeno nelle intenzioni di noi organizzatori la Shoah che ovviamente come abbiamo appena sentito è stato e resta un dramma epocale rappresenta per questo incontro il pretesto l'oggetto sul quale solo da poco dopo ben 50 anni nel libro di Lia si vede proprio benissimo il lentissimo emergere si inizia a poter dire ad affrontare il doloroso lavoro della mentalizzazione l'azione del rendere pensabili e quindi condivisibili gli effetti di traumi veramente e assolutamente intollerabili proprio quando come nel caso della Shoah caratterizzati ne ha scritto qua molto bene Silvia Vegetti Finzi da una sragionevole ragione con la congiura del silenzio infatti l'intenzione è quella di proteggere non solo se stessi protagonisti della tragedia come i nonni e i figli e i genitori di Lia ma anche i propri figli dall'orrore anche in argentina sono passati 45 anni e per celebrare il giorno dell'anniversario del golpe è stata promossa scrive la collega paola garmarini commentando il bellissimo podcast che vi invito ad ascoltare sulla morte realizzato per ipa web in geografia della psicoanalisi dallo psicoanalista argentino mariano orenstein l'iniziativa plantamos memoria che varcando i confini nazionali ha raggiunto anche l'italia obiettivo piantumare 30.000 alberi pari al numero dei desaparecidos uccisi durante l'ultima dittatura militare orenstein ricorda quanto l'america latina abbia contribuito a rendere strutturata e replicabile la pratica criminale della desaparizione forzata di persone ma il popolo argentino non vuole stare in silenzio non dimentica con questi rituali e homenaias il popolo argentino nomina la morte inflitta e gli zombie di cui parla orenstein diventano defunti aggiunge garbarini che l'argentina è stata altrettanto incomiabile nel promuovere pratiche di memoria prima marciavano le madri dei desaparecidos poi le loro figlie e figli ora anche i nipoti lo spazio primo occupato interamente dall'angoscia apre un varco ce n'è appena parlato alberto all'elaborazione del lutto la proposta di orenstein scrive garbarini di considerare gli psicoanalisti come antropologi forensi che facendo emergere pezzi a pezzi di corpi in argentina aiutano i loro pazienti a ricostruire identità perdute scrive garbarini che le sembra andare nella direzione di riconsiderare metaforicamente ma non solo anche il corpo un corpo che a volte può essere frammentato e sepolto ma che può ricostituirsi e la chiusura di alberto ricostituirsi nelle mani esperte di chissà aspettare scavare con delicatezza la stessa conquilia scavato nelle memorie familiari non dimentichiamo che in argentina gli infami sono stati a tal punto infami da adottare i figli delle loro vittime dei desaparecidos per annientarne le radici stesse dell'identità contro la cospirazione del silenzio tali abbiette adozioni e per comprendere e mitigare gli effetti della congiura del silenzio passo a questo punto la parola alia tagliacozzo che presento lì è nata a roma dove vive ha lavorato per vent'anni nel settore culturale delle istituzioni ebraiche scrive su varie testate fra cui il manifesto e confronti cura documentari per la televisione collabora con la redazione di sorgente di vita di rai 2 ha pubblicato vari libri fra cui melograna la nuova generazione degli ebrei italiani ha curato parole chiare i luoghi della memoria in italia 38 45 ha scritto saggi scientifici fra cui un saggio nell'enciclopedia della shoah edita da utet e sul numero monografico di aspegna dedicato ad israele destinati a bambini e ragazzi sul tema della memoria della shoah ha pubblicato negli ultimi anni il mistero della buccia d'arancia e la shoah o il giorno della memoria e la graphic novel inviati per caso viaggio nell'italia delle religioni ha raccontato i suoi libri a bambini e ragazzi nelle scuole di tutta italia il suo ultimo lavoro è pubblicato da mani editore la generazione del deserto storie di famiglia di giusti e di infami durante la persecuzione raziale in italia duemila e venti io ringrazio simona nissi perché grazie a lei che sono riuscita ad arrivare a contattare lì a tagliacozzo simona è con noi e a questo punto do la parola lì anche tu venti minuti circa e poi partiamo a parlarne assieme e buonasera a tutti anche io ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa e gli ospiti di questa iniziativa vi faccio vedere questo il libro ve lo faccio vedere è un oggetto che esiste che ha richiesto molto lavoro e ha richiesto un lavoro lungo molto prima che io cominciassi a scriverlo evidentemente è interessante notare io credo che i primi libri che io ho scritto dedicati alla scia io insomma scrivo da tanti anni scrivere il mio mestiere faccio la giornalista la redattrice culturale ma i primi libri che ho cominciato a scrivere parlando di scia sono libri destinati ai bambini e questo forse è qualcosa che ha a che fare con l'argomento di cui vorrei 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 parlarvi ma prima di questo però vorrei condividere con voi del disagio che io ho provato nel nel leggere nell'ascoltarvi e proprio perché penso che sia un disagio che sia un mio disagio che per voi e per la vostra come dire per il vostro mestiere può essere un disagio interessante su cui riflettere io ho una formazione per lo più storica quindi è con questi strumenti che mi sono affacciata alla riflessione e poi ho letto ho letto per tanti anni di queste cose il primo elemento di disagio che vorrei condividere è che nell'impostazione della cosa mi sembra quasi che ci sia stata una sorta di cospirazione del silenzio in opposizione versus la congiura del silenzio io sarei mi sembra la paladina della versione congiura adesso sono andata a cercare il significato sul dizionario e di entrambe le parole e devo dire mio malgrado nonostante io usi e poi volevo leggervelo entrambi le espressioni la parola congiura in effetti nel suo significato figurato è quella che forse più si avvicina a quello che io a cui io facevo riferimento e gli si avvicina nella parentesi che il vocabolario propone accanto all'espressione figurata congiura del silenzio perché dice proposito deliberato e concorde aperta parentesi anche se non preceduto da vero e proprio accordo di non parlare di una persona eccetera allora anche se non preceduto da avere proprio accordo il tema del silenzio nel mio libro è un tema che ha colpito moltissimo e ha colpito moltissimo in modo diverso in due ambiti diversi nell'ambiente ebraico non hanno fatto una piega anche nelle famiglie in cui si parlava di quanto accaduto il tema del silenzio è come dire è stato assunto io mi sono sentita dire da una famiglia in cui sistematicamente si leggeva il diario della nonna deportata e sopravvissuta mi sono sentita dire hai scritto con la tua storia quello che era il mio libro quindi evidentemente il tema del silenzio passa anche laddove la storia invece è stata raccontata e a maggior ragione ha colpito invece l'ambiente non ebraico in cui questo silenzio ha assunto la forma di un mi viene da dire tabù mi rendo conto che in questo contesto la parola tabù è rischiosissima la uso in modo assolutamente non specifico nella mia famiglia non era impedito parlare di shoah tutto altro non era impedito fare domande nessuno aveva mai esplicitato questo divieto era qualcosa di profondamente diverso ed è per questo che vorrei leggervi io mi sono preparata cercando nel libro degli figli da fornire alla vostra riflessione quello che accade nella mia famiglia è bene dirlo visto che il libro non è un giallo è che io ho scoperto dell'esistenza di una sorellina di mio padre soltanto da adolescente esiste è esistita una piccola ada tagliacozzo deportata il 16 ottobre del 1943 nella grande retata degli ebrai romani ma tale è stato il silenzio che ha accompagnato la sua scomparsa che io l'ho scoperta origliando una conversazione che non era destinata a me e vi leggo quello che ho scritto rimando riga dopo riga di raccontare la storia ascoltata quel giorno sullo scoglio una storia che non il no che non illuminò nulla non spiego a niente ma apri uno squarcio solo a distanza di molti anni comprendo che la cospirazione del silenzio che la mia famiglia ha tessuto inconsciamente quasi per una generazione e in realtà mi sono resa conto soltanto dopo che di generazioni stiamo a due o addirittura a tre era un meccanismo di difesa e anche quando non sapevo ma intuivo di non dover fare domande ero comunque consapevole fin nel profondo di me stessa che essa era comunque espressione di affetto la congiura del silenzio infatti è amore reciproco dei genitori per i figli e dei figli verso i genitori un patto a tuta la reciproca espressione di un amore tasciuto eppure evidente questa è per me la congiura del silenzio ed è in questi termini che volevo proporvela e non so se e in che modo è avversativa rispetto alla cospirazione di cui invece parlava alberto non mi sembra devo dire però poi parliamone l'altra cosa che mi ha creato un qualche disagio è la definizione e la scelta di usare la parola non la parola il lascio a come pretesto è chiaro il suo significato evidentemente ma mi sarebbe piaciuto di più forse una descrizione che lo avesse definito come in qualche modo paradigmatico più che perché io penso che lo sterminio industrializzato che ha spostato milioni di persone da un lato all'altro del continente mettendo al proprio servizio al servizio dello sterminio intere forze produttive intere forze intellettuali credo che sia stato un unicum nella storia e lo credo badate bene non preventivamente ma lo credo dopo una e questa è una questione che riguarda la discussione la riflessione storica lo credo dopo una comparazione non prima cioè la particolarità della shoah dipende e la sua secondo me ahimè paradigmicità discende dal confronto tra lo sterminio industrializzato che è avvenuto tra il 38 e il 45 e altre forme di sterminio che l'umanità non si è fatta mancare in nessun modo mi sono sentita particolarmente colpita dal riferimento al bambino della neve di vlodek golf corn mi dispiace che lui non ci sia mi dispiace che lui non ci sia perché lui sa che io sono tra coloro che non ho letto il suo non ha letto quel suo libro ne ho letto molti altri ma non quello ma io credo che la spiegazione che è stata offerta su chi quel libro non lo ha letto sia manchevole una di un pezzetto e cioè io non mi sono affatta rifiutata di leggerlo io non ci sono riuscita io ho cominciato a leggerlo e poi mi sono dovuta fermare non sono riuscita ad andare avanti e la differenza semantica non mi sembra indifferente scusa tu hai letto le madri salvate no è ancora peggio non lo leggerò ho deciso di salvarmi in questo modo cerco di riprendere il filo del discorso io credo che i silenzi vadano declinati al plurale per tornare al discorso del silenzio che tanto colpisce e non condividendo del tutto l'entusiasmo di alberto verso tutti coloro che si contrapposero prima alla legislazione antisemita e poi alla persecuzione delle vite io sono più cauta nonostante ci siano con tutta evidenza degli esempi importantissimi ma io personalmente mi sento mi sento più cauta penso appunto che i silenzi vadano declinati al plurale tanto quanto vanno declinati al plurale i tempi perché così come i silenzi non sono tutti uguali così anche i tempi non sono non sono uguali per tutti dico cose che in qualche modo ha detto in parte anche alberto sonnino il il primo è il silenzio dei reduci e mi ha rubato alberto la citazione di rav sax quando dice che c'era fame di vita è necessario costruire il futuro prima di poter parlare del passato uno degli esempi che a me è rimasto particolarmente impresso è quello di franco schneit che era morto ormai un po più di un anno fa un ex deportato ferrarese che torna a 17 anni tra l'altro caso più unico verrà anzi caso unico in tutta europa tornano tutti e tre i membri della famiglia cioè tornano lui ed entrambi i suoi genitori che hanno avuto destini diversi franco schneit torna a luglio nella sua ferrara e a settembre dagli esami di maturità cosa che a me sembra fuori dal mondo eppure evidentemente tale era la fame di vita la fame di andare avanti lui dice nelle sue interviste negli incontri che abbiamo avuto che guardare indietro era impossibile se si fosse guardato indietro non sarebbe più stato possibile andare avanti per tornare a una suggestione biblica a me viene in mente la fuga da sodoma e gomorra quando viene detto fuggi dopo la contrattazione tra i se c'erano meno giusti a sodoma e il padre eterno decide che no i giusti non c'erano abramo e la sua famiglia partono ma la moglie di lotta e con un comando con un comandamento che è quello di non voltarsi indietro la moglie di lotta si sottrae a questo comandamento si volta indietro e viene trasformata in una statua di sale come a dire che a guardare indietro si rischia di essere trasformati in una statua di sale e questo secondo me è il silenzio dei reduci che hanno avuto bisogno di tempo hanno avuto bisogno di costruire un pezzo di futuro prima di prendere la parola un altro esempio che a me viene in mente con grande partecipazione rischio l'emozione è quello di piero terracina che è morto anche lui qualche anno fa era lui era romano invece viene 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 tra l'altro veramente paradosso della storia catturato la sera di pesa nel 1944 a roma pesa che la festa della libera più di tutto nell'intero corpus nell'intera dottrina ebraica pesa che la festa della libertà la festa del passaggio dalla schiavitù alla libertà della schiavitù dell'egitto alla libertà del deserto e poi evidentemente dato il titolo del libro al deserto torneremo piero diceva che lui non aveva parlato lui era tornato solo unico di tutta la sua famiglia accolto dagli zii cresce si costruisce una professione non si sposerà mai non ha figli e comincia a parlare alla fine degli anni 80 quando dice lui muore primo levi lui dice finché c'era primo levi finché c'erano le sue parole finché c'erano i suoi scritti lui parlava anche per me lui parlava per tutti noi sicuramente parlava per me nel momento in cui primo levi è morto ho capito che io non potevo più far tirarmi indietro che è raggiunto il mio momento e che anche io dovevo parlare non c'era più chi parlasse al mio posto poi ovviamente c'è il silenzio individuale il silenzio degli incubi di primo levi no che temeva di non essere creduto è uno degli incubi di cui lui racconta che ha mentre sta nel campo sogna di tornare e di non e di non essere creduto va bene fa niente andiamo avanti c'è il silenzio degli infami il sottotitolo del mio libro è particolare particolare e tengo a rifarvelo vedere la generazione del deserto storia di famiglia di giusti e di infami durante le persecuzioni razziali in italia io devo ringraziare molto la casa editrice manni per aver accettato di non mettere la parola shoah né nel titolo né nel sottotitolo la parola shoah avrebbe scusate la brutalità e il cinismo forse garantito maggior mercato a questo volume ma abbiamo scelto di non mettercela perché la parola shoah è una parola ebraica è una parola che è entrata nell'uso corrente diciamo negli ultimi vent'anni in italia in italia peraltro non dappertutto nei paesi lingua anglosassone si continua a usare il termine holocaust dicevo il sottotitolo fa riferimento sia alla ai giusti sia agli infami che ai giusti perché c'era il silenzio degli infami il problema però non è che c'era il silenzio del singolo infame c'era il silenzio di un'intera società che non voleva confrontarsi con quanto accaduto perché il silenzi non sono solo silenzi individuali ma sono anche silenzi collettivi e citava de gaulle prima alberto io cito sottolineo il versante italiano della della vicenda e l'amnistia togliatti de gasperi che quando vai nelle scuole gli dici che togliatti e de gasperi insieme firmarono l'amnistia del 46 non solo gli devi spiegare chi sono togliatti e de gasperi ma anche il senso di questa operazione è un'operazione che garantisce la continuità istituzionale del nostro paese e mette però una pietra contro tutti i processi per collaborazionismo con il nemico i processi a quelli che io definisco infami e perché le corti che nei primi anni comminano pene severe poi progressivamente i processi si si sfaldano perdono di incisività fino all'armadio della vergogna scoperto all'inizio degli anni 90 dal procuratore militare in telisano quando scopre di nei meandri della procura militare un armadio con le ante rivolte verso il muro che contenevano i fascicoli delle stragi naziste nel nel nostro paese la faccenda però è che non è che la persecuzione degli ebrai è stata condotta in italia nel vuoto pneumatico io questo nel libro cerco in tutti i modi di darne conto e di raccontarlo gli ebrai erano cittadini di questo paese non solo teoricamente non solo perché ne avevano il passaporto o il documento d'identità erano cittadini di questo paese perché ne parlavano la lingua perché ne condividevano i luoghi perché vivevano insieme agli altri con cittadini negli stessi case negli stessi isolati negli stessi luoghi di lavoro e io nel libro cerco di dar conto perché queste responsabilità non avvengono nel vuoto pneumatico le responsabilità dell'italia sono responsabilità enormi sono responsabilità enormi nel 38 sono responsabilità enormi poi nel 43 l'infame non agis della mia storia e ripeto non essendo un giallo l'infame della mia storia è l'uomo che ha tradito l'amico peraltro che ha tradito mio nonno la congiura del silenzio però fa effetti strani perché il nome di questo infame è stato tasciuto e allora anche questo è un altro silenzio sul quale vale la pena interrogarsi mio nonno è stato deportato e non è mai tornato le ultime notizie pare che lo vedano vivo ad auschwitz a novembre del 44 tutti sanno oramai che ha tutti quasi sanno oramai che auschwitz è stata liberata dai sovietici e gennaio del 45 mio nonno mancavano forse chissà un paio di mesi e tutto sarebbe andato tutta la mia vita sarebbe andata in modo diverso così non è così non è stato mia nonna conosceva il nome di questa persona e alla liberazione di roma siamo evidentemente a giugno del 44 un capo partigiano che lei conosceva si rivolge va da lei e gli dice gli andiamo a fare la festa queste uso queste parole perché sono le parole che usava mia nonna quando ha usato mia nonna quell'unica volta in cui ancora una volta rivolta ad altri io gli ho sentito raccontare di questo episodio gli andiamo a fare una festa e lei ha detto no io bambina che ascoltavo questo racconto dal retro bottega ho avuto per un momento un senso di assoluta esultanza dicendo ma guarda mia nonna mia nonna ha perdonato mia nonna è stata una donna così straordinaria che sono bastati pochi secondi e poi mia nonna ha giunto e ho avuto ragione io perché è morta dopo è morto dopo pochi anni per atroci sofferenze come a richiamare una giustizia non so se divina o dovuta al fatto dovuto al caso chi lo sa ma insomma affidando la giustizia evidentemente non ai tribunali perché invece è emerso mentre io stavo scrivendo il libro e questa è la potenza della scrittura e la potenza del racconto casualmente sono emerse delle carte in cui il racconto in cui c'è una relazione di mia nonna all'alto commissariato militare alleato a roma in cui denunciava quest'uomo e chiedeva di fare chiarezza c'è addirittura una carta di un investigatore privato caricato di capire chi fosse questa persona bene mia nonna il nome di quest'uomo non lo ha mai detto quando vado nelle scuole racconto questa storia è domando ai ragazzi secondo loro perché mia nonna non l'ha mai detto e le risposte sono le più variate quella che va per la maggiore scusate la trivialità del linguaggio è quella di dire perché non voleva così come non si era voluta vendicare lei non voleva che i suoi figli fossero esposti al desiderio della vendetta e questo è tanto vero che la vendetta non fa non fa parte non ha mai fatto parte della narrativa familiare del patrimonio familiare a distanza di generazioni e generazioni e generazioni ma la congiura del silenzio ha una potenza veramente intra generazionale perché non solo quando io ho scoperto dell'esistenza di ada non l'ho detto a mia sorella e mio fratello e mia l'ha scoperto per conto suo e anche lei ha taciuto e mio fratello l'ha scoperto per conto suo e anche lui ha taciuto e mio padre ne ha raccontato per la prima volta a seguito di una vicenda bellissima e straordinaria perché oggi a roma c'è una scuola elementare che si chiama da tagliacozzo e lui è stato coinvolto nella attribuzione del nome di questa storia in modo abbastanza casuale in realtà ma era la prima volta che lui raccontava la storia di questa sua sorella taciuta così come la congiura del silenzio ha retto a proposito della della scoperta dell'esistenza di questa bimba che avrebbe dovuto diventare mia zia così oggi quando sono venute fuori le carte con il nome dell'infame io ho chiesto a mio fratello e mia sorella posso scrivere il nome e loro mi hanno detto no o meglio loro mi hanno detto tu fai quel che credi io non sono interessata a conoscere il loro il suo nome non mi interessa non mi appartiene nonna è un nome che ha taciuto per tutta la vita quindi è una stata una scelta ragionata e come dire tenuta forte per tutta la vita io rispetto il desiderio di nonna e per questo io questo nome non lo voglio nemmeno sapere il nome alla fine io non l'ho scritto ne ho messo solo le iniziali non l'ho scritto in virtù di due considerazioni di tipo diverso la prima che così come per attribuire il titolo del giusti che riguarda per fortuna l'altra parte della storia della mia famiglia la mia famiglia materna si è imbattuta in un giusto e si è salvata ma così come per attribuire un titolo di giusto è necessaria un'istruttoria si ragiona si analizza questa storia per verificare che effettivamente questa persona sia un giusto nella definizione che ne aveva allo Yad Vashem che è l'istituto israeliano di ricerca e di studio della Shoah per cui questa cosa deve essere avvenuta questo salvataggio di essere avvenuto a rischio della propria vita e questo era evidente per tutti coloro che aiutavano ebrei antifascisti e renitenti alla reva perché rischiavano la fucilazione sul posto ma anche senza alcun corrispottivo economico quindi è necessaria un'istruttoria per verificare tutto questo non è possibile oggi fare il processo agli infami all'infame e per questo ho scelto di scriverne solo le iniziali peraltro l'istituzione dei tribunali che sono quelli che fanno i processi e che applicano le leggi è una delle cose che avviene al popolo ebraico nel deserto Musè non ce la fa più a dirimere tutte le controversie e quindi suo suocero dietro gli suggerisce un modo per amministrare la giustizia attraverso l'istituzione dei tribunali questo è il sottotraccia di quanto è stato detto c'è un altro secondo me motivazione di questo silenzio ed è tutta racchiusa nelle espressioni che si usano in molte famiglie ebraiche ma non solo ebraiche nel linguaggio familiare nel linguaggio corrente è rarissimo che voi possiate sentire l'espressione è stato mio nonno il mio bisnonno mia zia è stata deportata l'espressione che si usa spessissimo è è stato portato via oppure lo hanno preso i tedeschi queste due espressioni rivelano ciò che non si sapeva perché quando queste persone sono state prese dai tedeschi quando sono state portate via non si aveva idea di che fine facessero e per anni e anni e anni non si è saputo che fine facessero perché se è vero che i sopravvissuti cominciarono ad arrivare diciamo nella nell'estate del 45 nei primi mesi dell'estate del 45 e poi ancora qualcuno nel 46 le pratiche formali per le dichiarazioni di morte presunte risalgono agli inizi degli anni 50 nella mia famiglia mia nonna ha continuato a fingersi mio nonno nello scrivere le letterine per il compleanno di mio padre e mio zio quindi mio nonno morto oramai da un anno e poi due anni continuava questa finzione adesso mia nonna era una donna di straordinaria intelligenza non avrebbe tenuto in piedi questa finzione se non avesse pensato che era ancora possibile una speranza e qui parliamo di tempi c'è un tempo io ho avuto bisogno di tempo ho avuto bisogno di tempo ho avuto bisogno di ho ben passato 50 anni per capire che quella storia non era solo la storia di mio padre solo la storia di mia madre la storia dei miei nonni quella era anche la mia storia e per questo io ho titolata a parlarne perché c'è c'è un una gran paura secondo me nelle persone della mia generazione ed è quella di prestare il fianco al revisionismo è una posizione oggettivamente molto ambigua la nostra perché come scrive Raffaella di Castro nel suo libro per l'appunto testimoni del non provato cioè noi in qualche modo ci troviamo a fare testimonianza di non ho idea di quanto tempo si è parlato a un certo punto fermatemi testimonianza di cose che non che non abbiamo provato il che presta ulteriormente il fianco al negazionismo che purtroppo continua e anzi diventa sempre più aggressivo quindi noi siamo in una posizione scivolosissima ciò nonostante è la nostra storia e siamo adesso cominciando a raccontarla insieme al mio libro in questo ultimo anno ne sono usciti altri e sono tutti di coloro tra virgolette che io ho definito della generazione del deserto ce n'è stato qualcosa prima ma era qualcosa in cui si raccontava degli altri non si raccontava di se stessi la generazione del deserto è una presa di parola è una dichiarazione di legittimità di stare dentro una storia scorro gli ultimi appunti io credo che per raccontare questa storia anche nel mio caso fosse necessario il futuro esattamente come diceva rav sax riportato prima da alberto sonnino vi leggo le poche righe che io scrivo che io scrivo a proposito del viaggio che ho fatto ad auschwitz io sono ad auschwitz per lavoro e pochi anni fa tutto sommato non avevo e non avevo nessuna voglia di andarci anche nel caso di quel viaggio pensavo che tanto tempo e tanto impegno impegnato a sottrarsene avrebbe dovuto avere indietro qualcosa ma da qualche parte dentro di me sapevo già che non era possibile che i vuoti sarebbero rimasti i vuoti e i pieni pieni e che forse sarebbe stato saggio farne l'inventario prima che l'aereo atterrasse in polonia e questo è l'inventario che io faccio due figli un marito una famiglia una madre un padre una sorella e un fratello suoceri due cognati due cognate e quattro nipoti amici 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 nonni che ho conosciuto il cui ricordo nessuno mi potrà togliere un lavoro un'identità ebraica con cui lottare costantemente due figli due figli due figli due figli con due nomi ebraici che rompono le orecchie d'altro canto a proposito di figli leggo un ultimo passaggio e poi concludo questa tornata di intervento quando io sono stata ad Auschwitz era un viaggio istituzionale quindi c'era il ministro c'erano i sottosegretari c'erano i presidenti e da un certo punto è stato lì suonato lo shofar lo shofar è il corno di montone che si suona nelle festività solenni dell'ebraismo in quell'occasione si scelse di suonarlo di fronte al a ciò che rimaneva era Auschwitz Birkenau quindi non nella parte del museo ma nella parte dove non è rimasto più niente lì il corno di montone ha immesso il suo suono potente antico che fa vibrare lo stomaco e che ha evocato milioni di volti milioni di nomi milioni di vite un suono primitivo che risale all'inizio dei tempi fino a quelle madri che come racconta un antico racconto ebraico che traversarono il mar rosso con i ventri resi trasparenti dal miracolo dell'apertura delle acque così i figli e i figli dei figli e i figli dei figli dei figli fino a me e ai miei figli così gli ebrei tutti fumo presenti al passaggio che ci consegnava dalla schiavitù dell'Egitto alla ricerca della libertà del deserto lo shofar chiamava raccolta tutti loro come fa con i vivi nelle sinagoge ma con il suono reso ancora più potente da quella volta di nuvole e neve dall'eco di quel luogo senza mura da quel biancore che ci circondava tutti lì sono stata abitata dai miei assassinati in quei luoghi da lì da quel progetto di sterminio totale dobbiamo passare tutti i vivi e i morti non è possibile altrimenti è da lì che inizia il viaggio nel deserto che ci renderà forse donne e uomini liberi io con questo per ora concludo grazie Elia mi colpisce che entrambi concludiate con il futuro uomini capaci di essere tali per uno stereotipo che attribuiamo al termine umano io appunto penso che dobbiamo chiederci cos'è umano tu hai detto abbiamo bisogno di futuro un grande analista Wilfred Bion ha scritto un libro memoria del futuro mi sembra che oggi stiamo lavorando proprio su questo e quanto transgenerazionale al quale ha fatto cenno Alberto sono studi importanti interessanti io leggo dal tuo libro a pagina 70 d'altro canto la nonna diceva per un morto si piange per due morti si piange per tre morti si piange poi c'è solo il silenzio e lei è stata zitta chiosa mia zia Sara tanti lutti impossibili da elaborare e il loro silenzio assordante sono stati deposti sulle mie spalle e questa è appunto l'emersione l'emergenza del 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 pericolo come ha sottolineato Alberto del diniego del rimozione del calare il sipario ma non solo su quanto è accaduto ma soprattutto secondo me su come si è cercato di nasconderlo di di quelle ante contro il muro insomma per intenderci ecco io volevo osservare una piccola cosa ad Alberto quando parli del silenzio di Dio che necessario è necessario perché l'uomo abbia il libero arbitrio se ho capito bene no ecco a me fa venire in mente che si collega avevo avuto la fortuna di conoscere Giuseppe Laras anni fa sempre gli slieri era venuto per due volte e aveva parlato io ho ripreso poi quel suo quella sua bellissima relazione in un mio lavoro della teshuva eccellente allora ti chiedo intanto di spiegarci perché è meglio lo facciate o tuolia che cos'è la teshuva eccellente non essendo io ebrea e poi se ha un nesso no con questa storia del libero arbitrio cioè che si potrebbe come dire giustificare il silenzio di Dio se l'uomo fosse capace di arrivare alla teshuva eccellente non solo alla teshuva e poi ho un'altra domanda per lì a vedete voi se volete rispondere uno dopo l'altro torno a Goldkorn e tu hai parlato proprio tu nel tuo intervento stasera hai parlato di fame di vita io credo che Goldkorn e Colombe Schneck fanno un inno alla fame di vita un inno e questo è la cosa più terribile che quest'inno alla fame di vita impedisce che Thanatos prenda il sopravvento però è una questione che ti porgo e ti pongo poi abbiamo con noi tante persone di cui vorrei sentire anche la voce e i pareri e sono sempre più convinta che dovremmo fare una giornata su questo tema è incredibile quante cose restano non dette mi taccio allora sì effettivamente no non è facile riprendere tutti i punti che sono emersi perché occorrerebbe una uno spazio ben più ampio di quello che le nostre forze ci mettono a disposizione questa sera io per risponderti vorrei partire da una considerazione molto semplice prima ancora della Shoah la nazione tedesca è stata travolta da quello che si chiama il progetto eutanasia progetto eugenetico la soppressione con mezzi chimici avvelenamento per inedia e poi alla fine con il gas delle cosiddette vite indegne di essere vissute progetto che ha comportato la morte di circa 90.000 tra cui circa 5.000 6.000 bambini 90.000 vittime affette da vari handicap allora io mi chiedo dobbiamo chiederci possiamo chiederci nel momento in cui manca un'elaborazione una teshuva teshuva significa espiazione significa assunzione riassunzione della propria responsabilità rispetto alla condotta peccaminosa alla condotta alla condotta lesiva criminale al peccato alla cattiva azione nel momento in cui manca un processo di teshuva la nazione tedesca che io collettivo va a costruire o a ricostruire c'è l'interessante lavoro dei mittermi perdonate la pronuncia alexander e margaret mister liscia che scrivono germania senza lutto loro fanno notare che nel dopoguerra la germania si è immediatamente impegnata in un processo di ricostruzione straordinario cioè noi osserviamo oggi berlino ricostruita veramente in un colpo in un colpo d'occhio cioè in un attimo hanno tirato su piazze edifici eccetera quindi c'è stato un forte investimento nella ricostruzione ma ignorando il fatto che circa 80 90 milioni tedeschi durante il conflitto secondo conflitto mondiale erano identificati con la personalità di Hitler vissuto come io ideale cioè come meta a cui tendere come oggetto con il quale identificarsi per cercare di assurgere le stesse qualità allora io mi chiedo una nazione che si è resa responsabile dell'eliminazione addirittura per inedia quindi morti per fame di 90 mila handicappati e che tutt'oggi fa in modo che determinate sindrome che sono state scoperte grazie tra virgolette grazie agli esperimenti su quelle stesse vittime hanno dato origine a sindrome che vengono chiamate con gli stessi nomi dei medici sperimentatori responsabili di quelle morti una tra tutte la sindrome di asperger che conosciamo tutti quanti la sindrome dello spettro autistico asperger era un attivo un attivo un attivo un attivo partecipante al progetto eutanasia quindi lui sezionava i cervelli dei bambini che morivano con il progetto eutanasia allora io mi chiedo la coscienza nazionale tedesca senza arrivare al fatto che con il processo di denazificazione sono stati reimmessi nella pubblica amministrazione nelle accademie nelle università tedesche gli stessi responsabili della soluzione finale ma quindi senza arrivare a questo senza arrivare alle assoluzioni di responsabili della Gestapo Walter Becker un nome tra tutti che è stato assolto perché i testimoni ebrei sono stati considerati dal tribunale dal giudice inattendibili perché coinvolti emotivamente quindi il personaggio viene assolto responsabile di strage e di stermini viene assolto perché i testimoni ebrei sono considerati non attendibili perché emotivamente coinvolti allora senza arrivare a questo fermiamoci a un momento prima dell'inizio della Shoah dell'inizio dell'inizio della soluzione finale una nazione che assiste allo sterminio i 90.000 handicappati la quasi totalità della classe medica e paramedica ha partecipato per interesse personale per vantaggi di carriera cioè che coscienza nazionale può strutturare allora manca la possibilità di fare teshuva cioè di riassumere sulla propria coscienza quella che è stata la responsabilità la consapevole responsabilità delle proprie azioni allora io credo che una via da seguire non per contrastare la scelta di Lia di non menzionare il nome dell'infame se c'è una cosa che è strana alla cultura ebraica è proprio lo spirito di vendetta gli antisemiti giocano con il precetto dell'occhio per occhio dente per dente dicendo che quello è un precetto che rimanda ad una concezione vendicativa dell'uomo quella in realtà è proprio l'antitesi della vendetta perché dà la misura del risarcimento del risarcimento a cui ha diritto la vittima quindi né una virgola di più né una virgola di meno ha diritto a un risarcimento nel momento in cui viene penalizzato, viene colpito, viene danneggiato da qualcuno allora quindi lo spirito di vendetta è proprio assolutamente strano alla coscienza ebraica ma fare il nome vuol dire permettere ai figli e ai nipoti dei responsabili di fare teshuva io non posso non citare lo straordinario lavoro di Federica Valbrecher che è la ideatrice, la fondatrice dell'associazione Ricordiamo Insieme lì a Tagliacozzo diceva la moglie di Lot viene trasformata in statua di sale nel momento in cui si guarda indietro ma lì non è guardare indietro per riappropriarsi di una memoria storica lì era guardare indietro con lo spirito nostalgico di chi lascia la propria casa, le proprie abitudini in una cultura perversa, quella di Sodoma e Gomorra, destinata all'implosione perché la storia ci insegna che qualunque cultura, qualunque società fondata su principi perversi prima o poi la paga e quindi rischia l'implosione quindi quello è un guardarsi indietro con nostalgia l'associazione Ricordiamo Insieme mette insieme figli e nipoti dei sopravvissuti, delle vittime e figli e nipoti dei carnefici proprio perché possano operare insieme al fine di arrivare ad un'elaborazione delle responsabilità è il lavoro straordinario che fanno in Israele quando si riuniscono annualmente figli e nipoti dei nazisti dei responsabili del nazismo e figli e nipoti delle vittime e fanno un lavoro di gruppo insieme, un lavoro straordinario che permette ai discendenti dei responsabili di fare teshuva di assumere la propria responsabilità con consapevolezza e con coscienza come dicevo prima per evitare che la colpa diventi una colpa persecutoria arrivare alla possibilità di una colpa depressiva vuol dire elaborare la responsabilità e liberarsene una volta per tutte nel nome proprio di una pacificazione, di una condivisione e nel nome di una fratellanza adesso rischio di scivolare nella retorica ma non credo che sia retorica cioè soltanto se si può arrivare ad un dialogo ad una condivisione ma che passi attraverso la teshuva passi attraverso il riconoscimento pubblico delle responsabilità si può arrivare ad una reale pacificazione altrimenti si rischia che sedimentino asti, colpa, persecutorietà, accuse, desiderio di vendetta sono tutti germi che inquinano e avvelenano uno spirito di condivisione noi dobbiamo fare in modo che un Gaetano Azzariti che ha fatto parte del Tribunale della Razza non possa diventare presidente della Corte Costituzionale fino al credo 1966-67 eppure questo è avvenuto in Italia noi avremmo dovuto fare in modo che un Carlo Attinei responsabile dei sequestri alle vittime ebree avremmo dovuto fare in modo che non diventasse nell'immediato dopoguerra responsabile della restituzione dei beni come vice commissario alla Questura di Venezia cioè queste sono le aberrazioni che la nostra cultura la nostra società avrebbe dovuto evitare cioè io con i miei occhi ho visto nelle viali del Policlinico Umberto I a Roma una targa in un viale intitolata Nicola Pende scienziato firmatario del Manifesto della Razza allora se queste cose non vengono esplicitate non vengono dichiarate pubblicamente non per vendetta ma per arrivare alla condivisione per arrivare al dialogo in funzione della costruzione di un dialogo che tutt'oggi manca tutt'oggi manca perché ricordiamoci che soltanto poche settimane fa gli Stati Uniti sono stati in grado di riconoscere che il popolo armeno è stato oggetto di un genocidio lì c'è una scotomizzazione c'è un diniego spaventoso che rischia di produrre patologia rischia di alimentare perversione rischia di alimentare persecutorietà per i discendenti dei carnefici e desiderio di vendetta nei discendenti delle vittime se non c'è un'effettiva elaborazione quindi io credo che per tornare al lavoro di Federica Vallebrecher figlia di appartenenti al nazismo ma una donna straordinaria che fa un lavoro straordinario con i discendenti delle vittime e con i discendenti dei carnefici cioè quella è la strada che dobbiamo seguire questa è l'indicazione più importante affinché ci sia teshuva e per rispondere alla questione che poneva Daniela rispetto alla posizione di Dio rispetto alla teshuva Dio non entra nel merito delle vicende umane Dio lascia che l'uomo scelga tra la strada orientata al bene e la strada orientata al male Dio non è onnipotente nel momento in cui concede il libero arbitrio allora nel Talmud stesso è scritto che l'onnipotenza di Dio si ferma nel momento in cui c'è appunto il libero arbitrio allora rispetto alla teshuva al processo di teshuva questa è una questione che riguarda la responsabilità individuale e collettiva non ci dimentichiamo nel giorno dell'espiazione ognuno di noi deve chiedere perdono deve fare teshuva deve espiare le colpe della propria collettività oltre che le proprie colpe personali quindi tutto ritorna nelle mani dell'uomo io parto da una constatazione che non siamo tutti uguali io non sono uguale a nessun altro e le mie ferite sono ferite che restano mie conosco Federica bene stiamo lavorando insieme per le prossime manifestazioni mi è stato proposto non da lei da un'altra persona di partecipare a uno di questi incontri e io non credo di essere pronta io non sono pronta alla pacificazione io ho bisogno che il processo di teshuva del mondo dei miei interlocutori sappia prendere prendere in mano se stesso aggiungo alla spiegazione di teshuva che ha offerto Alberto Sonnino la parola teshuva in ebreico vuol dire ritorno e significa ritorno sulla retta via evidentemente sulla via tracciata dai precedenti ci sono due ordini di peccato per cui si chiede la teshuva il giorno di Kippur uno sono i peccati commessi di fronte a Dio e lì te la sbrighi te col Padre Eterno come te pare ci parli decidi discuti e speri che ti segni nel libro giusto perché al termine del giorno di Kippur vieni segnato nel libro della vita nel libro della della morte ma poi c'è l'altro ordine di questioni su cui fare teshuva e che sono i peccati commessi nei confronti degli uomini e su questo Dio non ci può fare niente è quello che teshuva la teshuva il pentimento il ritorno l'annullamento del nodo l'annullamento della mancanza va consumato tra uomo e uomo e chi ha commesso il peccato è obbligato andare a chiedere scusa ad altri al suo offeso una volta due volte portando testimoni che garantiscano della effettiva consapevolezza e coscienza della teshuva e fino a una terza volta se dopo tre volte che tu hai chiesto scusa il tuo offeso non ti concede le sue scuse allora allora è lui che che passa tra virgolette dalla parte del torto diciamo però tu ti ci devi essere messo con tutti i sentimenti ma nella dinamica tra della teshuva tra uomo e uomo Dio non c'entra noi non siamo appunto non siamo tutti uguali io non sono pronta lo dico senza infingimenti pur sto lavorando con Federica e probabilmente parte cioè anzi sicuramente parteciperò alle prossime iniziative per il 16 ottobre a Roma ciò nonostante quando mi è stato proposto di andare a incontrare a partecipare a uno di questi incontri io ho detto che ancora non me la sentivo è curioso devo dire che in tutti questi nostri discorsi non sia mai stata citata l'esperienza del Sudafrica o l'esperienza del Ruanda dove l'istituzione di tribunali per la verità e la giustizia così si chiamavano prevedeva che rappresentanti dell'apartheid e rappresentanti dei neri discriminati venissero messi insieme e ci fosse per l'appunto da parte di chi aveva agito l'offesa una assunzione di responsabilità questo nella società occidentale non è mai avvenuto in nessuno dei paesi ed è strano che in tutte queste nostre riflessioni manchi questo riferimento che pure ha consentito al Sudafrica tra mille contraddizioni tra mille difficoltà tra mille ostacoli però di essere un paese non del tutto pacificato ma che è stato capace di uscire dalla logica dell'apartheid eppure noi non siamo capaci nemmeno di assumere come assumere quello come esempio questo secondo me è un po' sorprendente l'altra domanda che apparentemente non c'entra niente ma che secondo me c'entra è tutti i partecipanti a questo incontro sono tutti con la telecamera oscurata mi domandavo se era una prassi se era una richiesta o se era una scelta dei singoli partecipanti lo dico scusatemi sono un po' puntuta il rischio di essere antipatica rispondo io in quanto collegio sono un'altra assistente abbiamo una telecamera oscurata perché purtroppo ci sono stati degli numerosi no numerosi no però insomma incresciosi episodi di zoom bombing e quindi abbiamo dovuto adottare delle misure di sicurezza e quindi di default dobbiamo impostare lo spegnimento della telecamera e dell'audio per chi entra d'accordo purtroppo ed è decisamente sorprendente ed è decisamente imbarazzante lo confesso parlare di fronte a una serie di quadratini grigi e lo so infatti soprattutto è stata una cosa che ci è dispiaciuta molto dover fare in alcune conferenze abbiamo dovuto addirittura bloccare la chat chi ha esperienza del lettino analitico sa sa che cosa significa perché ci si apre fino in fondo e profondamente fino anche a quattro volte alla settimana per non si sa quanti anni con un ascoltatore che non è visibile in volto e quindi forse questo può favorire anche il il contatto con il proprio mondo interno io se se mi è consentito quindici secondi lì sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi l'esempio del sud africa è un esempio straordinario ma quello è come tu giustamente dici è il modello che è mancato in Europa e nella cultura occidentale ma è mancato perché si è avuta la fretta e lì possiamo aprire anche un altro capitolo importante si è avuta fretta di cancellare tutto con la denazificazione in Germania e con le varie amnestie in Italia in Germania stessa in Austria quindi si è pensato di metter fine al rischio di una conflittualità abrogando per legge quello che doveva essere invece un processo collettivo psicologico di interesse sociale profondo complesso e fondamentale quindi sono assolutamente d'accordo con te così come sento di rispettare profondamente la tua scelta la tua posizione nel momento in cui dici che non ti senti pronta ad incontrare i discendenti dei carnefici quindi è una posizione che va assolutamente dignitosissima e che va assolutamente rispettata però credo che sia altrettanto importante fare in modo che chi si sente pronto e disponibile ad assumere su se stesso le proprie responsabilità e sia pronto a riconoscere i torti dei propri genitori nonni o chi per loro possa essere aiutato ad uscire fuori dall'anonimato proprio per favorire la ripresa di un dialogo ognuno ovviamente secondo i propri tempi quindi sono sono d'accordo con te mi sento di rispettare profondamente la tua posizione io darei a questo punto spazio non abbiamo tantissimo tempo a eventuali interventi domande riflessioni paola paola garbarini buonasera a tutti stavo pensando stavo facendo questa riflessione che è una riflessione in realtà una domanda che faccio a voi no perché ragionavo sul fatto che laddove non arriva il pentimento proprio perché anche questa è una dimensione molto personale no e che ha bisogno del proprio tempo credo che allora debba arrivare la giustizia in qualche modo no cioè la voce della legge che sancisca che stabilisca un qualcosa che va oltre la dimensione personale individuale il proprio sentire personale deve esserci una giustizia deve esserci una collettività che riconosce un torto subito no pensavo riflettevo su questo e parlando sia di Sudafrica prima si parlava di Argentina io anche in Argentina è successo un po' questo no in Argentina è stato esportato purtroppo molti molte delle persone che poi in Germania non hanno dovuto non hanno non si sono prese la responsabilità di quello che è successo hanno avuto la possibilità di espatriare di andarsene ed esportare una pratica no metodologicamente già provata mi viene da dire no per cui poi sono arrivati in un in Argentina e in altri paesi del Sud America applicando proprio una strategia specifica no e in quel caso c'è stata una una pulizia ideologica più che altro politica però quello che è successo poi che quando la dittatura è finita effettivamente in quel caso i presidenti che si sono succeduti dopo il fine della dittatura ci hanno un po' provato a fare questa cosa perché con la legge del punto finale dell'obbedienza De Vida e successivamente con l'indulto di Menem quello che si è tentato di fare è stato proprio questo no indulto e fondamentalmente per la maggior parte dei carnefici non c'è stato poi riconoscimento di una colpa perché si è detto stavano rispettando degli ordini sono voluti tantissimi anni perché poi la dittatura è finita nei primi anni ottanta nell'ottantatré ci è voluto Kirch nel 2003 per decretare l'incostituzionalità della legge quindi sono passati veramente veramente tanti anni finalmente è ricominciato il processo sono ricominciati i processi io sono assolutamente d'accordo sono importantissimi e pensavo a questo no? io sono assolutamente d'accordo devo dire che tra i miei appunti trovo una frase sparsa che non sono riuscita a inserire ma che mi sembra particolarmente calzante in relativa a questa osservazione e cioè che la critica culturale non può sostituirsi al conflitto politico ovvero l'una è parte dell'altra e viceversa e credo che questo sia uno degli aspetti di cui stiamo parlando in questo momento cioè che appunto l'osservazione culturale l'osservazione forse anche terapeutica non può sottrarsi al conflitto politico lo dico con estrema determinazione perché appunto i primi libri che io ho scritto li ho scritti dedicati alla Shoah sono libri scritti per bambini e sul motivo di questo appunto ci si potrebbe ragionare ma il fatto di aver portato questi libri per tanto tempo nelle classi ha fatto sì che ci dovesse essere un fine in tutto questo se tu porti una storia porti delle storie di questo genere in una classe di bambini che vanno dall'elementare alle medie e poi anche alle superiori ma a partire dalle elementari e i bambini dell'elementare sono interlocutori attenti capacissimi di comprendere ciò di cui si sta parlando non c'è bisogno di traumatizzarli l'obiettivo non è traumatizzarli io posso far piangere con grande facilità dei bambini raccontandogli la storia di Ada ma non è il mio interesse farli piangere il mio interesse è offrirgli degli strumenti per il presente e nel fare questo io non faccio memoria nel fare questo non faccio solo non faccio solo memoria nel fare questo io non faccio solo storia nel fare questo io faccio politica vedo che c'è Anna Ferruta che forse vuole intervenire è una collega della società psicoanalitica sì volevo mettere in luce un altro aspetto della congiura del silenzio e del motivo per cui solo a partire dagli anni 80 si è cominciato a parlare più esplicitamente di Shoah pubblicazioni e interventi e memorie io credo che il silenzio è dovuto spesso alla indisponibilità di qualcuno che ascolta che è poi l'incubo di cui parla Primo Levi che diciamo aveva prima di rientrare quindi questo a me sembra un elemento fondamentale accanto anche al riconoscimento della collettività anche giuridico indispensabile quindi i processi senza dubbio il processo Eichmann poi ha determinato una svolta proprio perché richiedeva un'assunzione di responsabilità però io credo che sia in analisi che poi nella vita quotidiana sia importante che ci sia coloro che non sono le vittime le discendenti dei carnefici ma che sono persone umane comunque rappresentano un insieme di persone che devono dichiararsi interessate e disponibili ad ascoltare perché e questo è qualcosa che anche illustra in un articolo che adesso è uscito su International Journal perché con lo sterminio della Shoah appunto metodico è stato offeso qualcosa della concezione dell'umanità del soggetto umano che ha impoverito e danneggiato tutti gli esseri umani e quindi tutti in qualche modo da quanto è avvenuto nella Shoah sono rimasti vittime e feriti che devono quindi in qualche modo rendere testimonianza innanzitutto con una disponibilità all'ascolto è qualcosa che riguarda sia la seduta analitica in cui anche quando si hanno in analisi dei discendenti di vittime della Shoah il problema è che di questa ferita sono portatori sia i discendenti ma anche l'analista stesso perché è anche egli rappresentanti di un'umanità offesa che quindi è disponibile all'ascolto e quindi il silenzio richiede anche è anche così diffuso perché non c'è gente disponibile all'ascolto e anche per questo tutti gli anni io prima solo con Valeria G. di Morpurgo e dopo adesso con un piccolo gruppo cerco di mettere in campo in occasione della giornata della memoria un evento qualcosa che rappresenti questo interesse all'ascolto da parte anche di tutta quanta la comunità umana che è stata anch'essa protagonista di questo evento distruttivo della relazione umana di base per la quale bisognerebbe quando si nasce alla vita avere la possibilità di avere fiducia nell'adulto che incontri e la Shoah e tutto lo stermino nazista hanno distrutto in parte per fortuna solo in parte la fiducia che la comunità l'ambiente il paese in cui nasci possa essere degno di fiducia per la tua crescita e quindi penso che sia molto importante anche questa funzione di cui parla anche KS coro di tutti coloro che non sono stati coinvolti in prima persona ma sono ugualmente coinvolti perché è stata ferita una dimensione umana di base cioè quella che è l'origine della vita fidarsi dell'altro è stata violata in effetti è quello che ha un po' detto Paola Garbarini ora poi do la parola a Mimmo Schinaia un altro collega Lia vuoi dire qualcosa? stavi parlando? no volevo dire posso dire qualcosa? ah Giuliana allora dopo c'era prima di te Mimmo Schinaia anche lui un collega della società psicoanalitica italiana e poi Giuliana Campanella Mimmo beh innanzitutto grazie per per un incontro così bello e così intenso ehm volevo fare riferimento a quello che di cui ha parlato Alberto a proposito della velocità con cui la Germania è stata ricostruita c'è un bellissimo libro di Sebald la storia naturale della distruzione in cui eh si parla poi più specificamente di di colonie e di amburgo aspetto a questo e quanto questo ha a che vedere con eh quella condizione ecco che noi spesso eh ritroviamo e che chiamiamo ecco nel nel nostro gergo psicoanalitico appunto chiamiamo appunto il nei termini appunto di di una riparazione maniacale no? Cioè la mancanza di una eh elaborazione che poi porta appunto a a rendere ecco i ritmi i tempi ecco troppo contratti per cui non c'è tutta la possibilità di di elaborare il il passato ma anche appunto i vissuti eh legati appunto al passato mi chiedevo e questa è una domanda ecco che faccio ad entrambi i relatori se un un fenomeno analogo per certi versi non è possibile ritrovare anche in nella in quelle situazioni che sono state descritte dalla Jukovic dalla Kestenberg a proposito dei revenant cioè dei figli di rimpiazzo cioè la difficoltà di elaborare il lutto che diventa quindi dare il nome di sostituzione di chi appunto è morto durante la Shoah ai figli con tutto il peso con tutta la fatica ecco che questo nome appunto comporta con tutti i termini appunto di paragone rispetto all'eroe vittime di chi è stato appunto in passato e quindi con chi ha che vedere mi sembra ma è una domanda la mia anche proprio con quella anche con quegli aspetti di silenzio ecco che hanno riguardato poi anche appunto il la vita appunto dei discendenti delle delle vittime delle vittime della Shoah posso essere brevi volevo dire una cosa vogliamo sentire anche Giuliana e non so e poi rispondete collettivamente o preferite che mi è preceduto ha detto in parte quello che volevo dire rispetto alla riparazione che appunto è qualcosa di venitivo di aggiungere qualche cosa di nuovo mi piaceva questo la fame di vita cioè il costruire un petto di futuro prima di poter parlare e mi ricordo che Alberto ha parlato a proposito di Liliana Segre il costruire addirittura come il futuro nel senso di generare generare figli e nipoti per poter parlare assicurarsi un futuro attraverso il procreando poi mi interessava dire che nel fatto reciproco di cui parlava Giuliana Giuliana dovresti parlare più forte io non riesco a sentirti nel fatto reciproco di cui parlava Lia il fatto il nome di un affetto c'è un aspetto relazionale è un fatto così come secondo me è indispensabile che ci sia un fatto che sia una relazione all'interno del perdono perché il perdono dato così è una follia se non all'interno di una relazione con chi perdona e chi è perdonato ecco mi sembra importante l'aspetto della relazione in tutti e due i casi nel fatto riciclo rispetto al tacere di una morte e anche rispetto al perdono e poi dire che appunto la vendetta è diciamo detto banalmente non è remunerativa perché comunque non fa che confermare e rafforzare il legame che invece si vuole sciogliere e elevare in mezzo e mi sembra molto interessante fatto che lì abbia scelto e l'onore anche della nonna di mettere portanto le iniziali del nome cioè né tacere né dirlo ma mettere le iniziali ecco bello questo grazie allora volevo rispondo alle due questioni sulla domanda di Mimo mi viene da pensare questo io credo che qualunque fenomeno umano sia sovradeterminato rispetto ai vari significati che assume e che può veicolare io credo che sia plausibile il rischio che lui indicava cioè quello di una riparazione maniacale è anche vero che questo rischio però si compenetra con quello che dicevamo prima cioè il bisogno di dare spazio alle spinte vitali e all'eros proprio quindi con la costruzione di una nuova generazione in modo tale da ritrovare quella fiducia nella vita nella capacità di accudimento di cui parlava anche Anna Ferruta nel momento in cui dice che l'intera umanità viene colpita dalla Shoah perché viene proprio messa in discussione la bontà dell'essere umano e la bontà del suolo su cui su cui viviamo ma quello che diceva Mimmo Schinaia è assolutamente condivisibile e plausibile tant'è che nel bellissimo lavoro di Dina Vardi Le candele della memoria c'è più di un caso di persone che sono state messe al mondo e a cui è stato dato il nome di un ascendente che è stato sterminato nel sterminato durante durante la Shoah e questi questi figli che portano questi nomi si sentano sovraccaricati di una responsabilità di un compito di una funzione di un senso che sentono non appartenerli quindi è come se fossero rinati in sostituzione di qualcuno che non c'è più e questo ovviamente ha un peso significativo del resto il senso della trasmissione transgenerazionale con i suoi effetti patogeni credo che consista proprio in questo allora credo che sia necessario certamente dare spazio alla libido con la costruzione anche come dire affrettata se vogliamo di una nuova generazione di nuova vita ma nello stesso tempo è importante anche che ci sia un'elaborazione adeguata rispetto alla questione del perdono che indicava Giuliana Giuliana Campanella la questione del perdono è una questione estremamente delicata è di circa un paio di mesi due tre mesi fa la richiesta degli ultimi discendenti di casa Savoia di avere il perdono per quello che hanno fatto perdono che non è stato concesso per un motivo molto semplice che il perdono può essere concesso soltanto da chi è stato offeso quindi nessuno può concedere un perdono invece di qualcun altro al posto di qualcun altro occorre come giustamente ricordava Gliataglia Cozzo che ci sia un'effettiva assunzione di responsabilità il riconoscimento della propria condotta lesiva il riconoscimento della propria colpa e poi il perdono può essere richiesto direttamente solo direttamente a chi è stato offeso questo per la cultura e per il pensiero ebraico concedere il perdono così non ha ovviamente alcun senso dicevi Giuliana dicevo all'interno della relazione tra chi è stato offeso e chi è offeso soltanto questa condizione certo certamente certamente solo in questo caso Lia io racconto allora nelle mie risposte mi scopro come dire più vicina alla tradizione ebraica di quanto forse non non supponessi per cui rispondo alla questione del perdono con un non con un midrash ma con un aneddoto che riguarda la mia vita familiare per una strana serie di coincidenze il migliore amico di mio figlio da quando stavano alle scuole materne adesso hanno entrambi i 24 anni è un ragazzino di famiglia tedesca nato e cresciuto in Italia ma di famiglia tedesca uno dei nonni di questo ragazzino che è cresciuto in casa mia il ragazzino non il nonno ha fatto la campagna d'Italia con l'esercito tedesco una volta quando i bambini erano ancora piccoli avranno gli ultimi anni degli elementari i primi anni delle scuole medie Daniele viene da me e mi Daniele sarebbe mio figlio e mi dice mamma se poi fosse stato il nonno del mio amico a catturare il papà il papà di nonno come facciamo? allora ovviamente è una domanda alla quale io non ero assolutamente in grado di rispondere se non dicendogli che lui e Momo erano amici e la cosa riguardava loro ed erano loro a scegliere che peso dare a tutta questa faccenda e loro hanno deciso hanno deciso che quando io sono andata a citofonare a casa di Momo per dire a Daniele scendi che devi venire a lezione di ebraico Momo si è arrabbiato e ha detto se il mio amico va a lezione di ebraico anche io vado a lezione di ebraico e quindi Momo tedesco che non aveva alcuna scendenza ebraica da nessuna parte si è fatto tutte le lezioni di ebraico con Daniele finché Daniele non ha cominciato la preparazione per la sua maggiorità religiosa e a quel punto Momo ha deciso che vabbè insomma aveva dato fino a quel punto ci arrivava poi gli interessava di meno la faccenda e quindi e quindi ha smesso di andare a lezione io credo che oggi la questione del perdono possa essere posta giusto così nel senso che o Lomino o l'SS che è venuto a prendere Ada va da mio padre gli bussa alla porta e gli chiede perdono oppure mio padre non so bene chi possa e debba perdonare peraltro è esattamente la sua posizione non faccio alcuno sforzo di originalità insomma questa è la faccenda temo che la questione del perdono non possa che porsi nei termini appunto proposti da da Daniele e dal suo amico Momo che oggi hanno 25 anni quindi sono dei dei giovani adulti sono dei giovani uomini nonostante l'adolescenza lunga e sono rimasti amici tempo per raccontare una storiellina velocissima perché stiamo sforando forza Alberto 30 secondi sul perdono c'è una storiellina ebraica non so se sia proprio un midrash o comunque una storiellina ebraica di un vecchio maleodorante vestito da straccione che sale su un treno un anziano e chiede che gli sia concesso di poter sedere quindi chiede che qualcuno gli possa cedere il proprio posto e l'interlocutore a cui si rivolge gli nega questa possibilità allontanandolo in maniera anche abbastanza disgustata quando arrivano nella stazione alla stazione di destinazione il vecchio maleodorante vestito con stracci abbastanza malandato viene accolto da una folla festante perché era il rebbe importante il grande maestro che aveva attraversato la mitte l'Europa per arrivare nel paesino e condurre e fare le sue le sue lezioni a quel punto il malcapitato viaggiatore va dal grande rabbino e dice rabbino io sono molto dispiaciuto di non averti ceduto il posto sul treno sa l'avevo vista così maleodorante vestito da straccione se avessi saputo che lei era una persona così importante io mi sarei alzato immediatamente e l'avrei ceduto il posto quindi le chiedo umilmente perdono le chiedo di scusarmi per questa mia leggerezza per questa mia superficialità e il rabbino gli dice io non posso perdonarti non posso perdonarti perché tu in questo momento stai chiedendo perdono al grande maestro non stai chiedendo perdono allo straccione se avessi chiesto perdono allo straccione ti avrei potuto perdonare ma così non posso perdonarti questo per dire per rispondere anche per aggiungere una cosa giuliana sull'importanza della della concessione del perdono della discussione del perdono all'interno di una relazione che deve essere autentica che deve essere genuina e non può essere come dire basata sulla sostituzione di un personaggio con un altro mi permetto di aggiungere una cosa a proposito della questione delle generazioni e generazioni cioè la generazione di futuro sposa in modo come dire incastrato l'uno nell'altro la faccenda delle generazioni nel senso che c'è stato bisogno di generazioni perché questo processo di presa di parola avesse avesse campo è stato e questo è valido per la generazione precedente alla mia cioè quella dei miei genitori cioè quella dei testimoni e questo è valido anche per la mia generazione e cioè per tutti coloro della generazione del deserto cioè di coloro che sono nati dopo la schiavitù ma prima dell'arrivo nella terra promessa sono nati liberi dall'Egitto ma non sono ancora giunti nella terra del latte del biele nella terra della libertà quindi stanno nel deserto e anche per noi il momento della presa di parola è arrivata una volta che abbiamo avuto dei figli e dei figli in qualche modo cresciuti cioè non non solo promesse ma giovani uomini e giovani donne pronti ad affrontare il loro futuro io devo essere veramente severa e mettere praticamente la parola fine davvero è la prima puntata lo prometto dunque raccogliendo Anna Ferruta ha sottolineato secondo me un aspetto indispensabile quello che ha Silvia Mattis Sass che lavora con torturati argentini argentina a sua volta una collega della SPI dice che c'è bisogno che ci sia nell'analista anche un testimone non soltanto chi ascolta anche un testimone poi Anna ha parlato di un'umanità offesa che vive anche nell'analista che ascolta io aggiungo che secondo me c'è anche un'umanità offendente e che noi non dobbiamo assolutamente dimenticarlo e stava tra le righe del discorso di Alberto Sonnino il rischio per ciascuno di noi e qua il mio analista Franco Ferradini mi raccontava una storiella che lui diceva talmudica spero di non sbagliare e cioè quella del bambino e il suo papà davanti a una scala il papà dice al bambino sali sul primo gradino e buttati che ti prendo secondo terzo quarto dal quinto o dal decimo non mi ricordo lo fa sfracellare non in modo da ucciderlo ma da prendere una bella botta sì e gli dice impara che non puoi fidarti ciecamente neanche di tuo padre e secondo me questa storia è stupenda e ci riguarda proprio profondamente come analisti poi da Mimmo Schinaia che ha parlato giustissimamente di riparazione maniacale raccogliendo gli stimoli arrivati dai nostri due bravissimi relatori generosi anche ecco Larash parlava di teshuva e basta come riparazione maniacale e diceva che arrivi a quella eccellente quando chiedi perdono allo straccione non a rev quella è solo teshuva così ce l'ha spiegata Larash poi magari sono io che non ho capito infine per rispondere a Giuliana Campanella riprendo una frase di Elia lei ha sempre parlato di chiedere scusa noi abbiamo parlato di perdono io detesto l'idea che qualcuno possa chiedere perdono è troppo chiedi scusa ma perdono è troppo ti devi lavare la coscienza mediante quello che tu hai perseguitato che ti perdona è troppo ecco questo è il mio parere quasi che aprirebbe suppongo un ulteriore dibattito ma vedo appunto mi dispiace dobbiamo veramente fermarci il rettorato ha preso un volto e il volto dice basta dottoressa sconto e quindi grazie mille veramente grazie alle prossime puntate Marco lo so che poi mi sgrida alle prossime grazie anche io tutti grazie grazie a tutti buonanotte grazie a tutti arrivederci grazie mille grazie grazie a tutti